A Calolzio la scuola Gambiraso è abbandonata da 20 anni. Ora anche il progetto di abbatterla per costruire un palazzetto dello sport è andato in frantumi. Prima la soprintendenza e poi il Ministero dei Beni Culturali hanno vincolato lo stabile perché ha ritenuto meritevole di essere tutelato. Tutto è partito, secondo l'amministrazione comunale, dalla petizione lanciata a febbraio dall'opposizione che ha raccolto 500 firme, di cui 14 di calolziesi. A seguito di alcune denunce esposte fatte dai gruppi di minoranza e a seguito di questo anche dall'intervento dei vecchi progettisti o comunque degli eredi, è stato chiesto dal punto di vista dei progettisti correttamente, dal loro punto di vista, di garantire il diritto d'autore, ciò che aveva realizzato questa struttura che fosse garantito il diritto di autore, da un punto di vista dell'opposizione invece era una scelta più che altro politica, strumentale, a impedire che venisse realizzato il palazzetto dello sport. Il risultato è che il palazzetto dello sport non si farà, anche se avevamo ottenuto proprio negli stessi giorni un finanziamento dal GSE di oltre un milione per poterlo realizzare. Ristrutturare anziché abbattere e ricostruire. Quest'ipotese è stata vagliata? È stata vagliata, si è stata fatta già una relazione vent'anni fa da un tecnico che ha valutato che non era fattibile perché i costi sono talmente elevati, essendo una struttura che non rispetta molte delle norme attualmente in vigore, dobbiamo bene o male tenerla così, a meno di fare degli interventi estremamente costosi che noi non siamo in comune, non è al momento in grado di fare. Un messaggio che vuole mandare ai suoi cittadini su come sono andate le cose? Ci dispiace, abbiamo perso delle risorse del tempo, secondo me per una posizione strumentale di qualcuno contro qualcun altro, non all'interesse dei cittadini.